Ben tornato Guttler, ben tornata. Vado ora a terminare la sezione opzioni internet. Nella lezione precedente avevamo terminato con la sezione privacy, ora parliamo del contenuto. In questa sezione puoi trovare 5 sottosezioni, controllo genitori, contenuto verificato, certificati, completamento automatico, feed e web slice. Per la prima sottosezione ti rimando alla lezione 97 al rispettivo video tutorial in quanto già è stata trattata l'opzione sul controllo dei genitori. La seconda sottosezione ti permette di navigare solo alcune pagine web, quelle che contengono materiale verificato e che rientrano in determinati criteri che andrai a selezionare. Puoi ad esempio bloccare contenuti che non rientrano nella tipologia di fruibilità per i bambini. Ciò puoi impostarlo cliccando sul tasto attiva e successivamente nella scheda classificazione. Per ogni categoria puoi variare la posizione di un cursore per bloccare, limitare o lasciare totalmente libera la visualizzazione di pagine web e quindi la navigazione in relazione al determinato contenuto che avrai bloccato, limitato o lasciato completamente libero. Ancora puoi impostare addirittura l'indirizzo URL per i siti da consultare oppure da evitare creare una lista bianca o una lista nera. La sottosezione dei certificati invece consente di visualizzare e gestire la certificazione dei siti web. Molto brevemente, i certificati garantiscono l'identità e la crittografia dei siti. Puoi visualizzare o gestire i parametri di certificazione rilasciati dal fornitore di servizi o dei siti installati all'interno del tuo computer. In definitiva i certificati saranno installati sul tuo computer. La sottosezione e completamento automatico ti consente di migliorare la fruibilità della navigazione o del completamento dei campi sfruttando la tecnologia di memorizzazione delle informazioni digitate. Cosa significa? Da un lato puoi aumentare la velocità di compilazione dei vari campi, evitando di digitare di nuovo gli indirizzi URL nella barra degli indirizzi per la navigazione di Internet oppure la compilazione dei vari moduli web come quelli che normalmente compili per registrarti ad un determinato servizio oppure la compilazione dei nomi identi e password. Ma dall'altro però potresti facilitare il compito dei malintenzionati i quali potrebbero carpire con più facilità i tuoi dati sensibili se dovessero avere accesso al tuo computer. Dal pulsante invece impostazioni puoi accedere all'elenco dei campi dove applicare il completamento automatico. In definitiva seleziona o deseleziona dove vuoi applicare o meno tale opzione di completamento automatico. L'ultima sottosezione è riferita ai feed, RSS e Web Slice. Il feed è una caratteristica che ti consente di rimanere aggiornato a tematiche a cui sei sensibile, sottoscrivendoti a determinati siti, quelli che forniscono la cultura a cui vuoi accedere, le informazioni a cui vuoi accedere. Una Web Slice invece è una nuova funzione che ti permette di mantenere il tuo stato di aggiornamento per uno specifico contenuto, contenuto messo a disposizione ad esempio da un sito, come quello che può essere il risultato di una competizione, il prezzo di un'asta e cose del genere. Quando avviene un aggiornamento in entrambi i casi, con una notifica verrai allertato e cliccando su questa notifica potrai così visionare il contenuto della stessa ed aggiornarti su ciò a cui ti eri sottoscritto. Tramite il pulsante impostazioni potrai quindi gestire alcuni parametri per questi aggiornamenti. Nella sezione connessioni puoi apportare delle modifiche alle impostazioni di Internet e della tua rete. Qui hai una rappresentazione della schermata e un'opzione interna a questa sezione. Di norma questa sezione dovrebbe interessarti in maniera marginale, in quanto verosimilmente già dovresti avere una connessione, quindi diciamo che il pulsante imposta ti consente di avviare una procedura guidata per creare una connessione di Internet remota, quella tramite il numero di telefono, oppure una banda larga e quindi passerei oltre proprio perché verosimilmente già avrai questa connessione attiva. La sottosezione inferiore è anch'essa correlata alle connessioni e potrai aggiungere una nuova connessione, come appena detto, oppure una connessione VPN, dall'inglese Virtual Private Network. Questa procedura guidata può essere impiegata per connetterti ad una rete aziendale o altra rete ad una certa distanza. In questo caso sarà però necessario conoscere alcuni parametri del server per realizzare tale connessione. La sottosezione relativa alle impostazioni rete locale tramite il pulsante impostazioni LAN ti permette di variare le impostazioni o manualmente o automaticamente della tua rete ed eventualmente impostare i parametri di un server proxy per poter navigare. Qui un screenshot che ti permette di selezionare o deselezionare alcuni parametri e eventualmente trascrivere i dati relativi a un server proxy. Il proxy è un server intermediario che si intersega tra il tuo computer ed Internet e viene utilizzato dal tuo browser, in questo caso specifico della lezione che stiamo trattando, Internet Explorer. Di norma esegui la navigazione tramite i server del tuo fornitore di servizi, quindi non devi intervenire per creare una connessione ad Internet e quindi, dato che sarà sufficiente avere un contratto ed un modem router per l'accesso ad Internet, non è necessario impostare alcun parametro per quel che riguarda eventuali server proxy. Ma se invece devi navigare tramite un computer che è presente in un ufficio, in un'azienda, all'interno del quale esiste soltanto un computer principale, definito server, che determina l'accesso ad Internet, quindi una serie di computer che si collegano a questo server per poter navigare, l'unico modo per connettersi al server e quindi successivamente ad Internet è quello di usufruire delle informazioni dell'amministratore di rete che dovrà impostare i parametri nel tuo computer per accedere a quel determinato server, inserendo il parametro indirizzo e la porta relativo per poter realizzare la connessione e quindi usufruire dell'accesso ad Internet. La sezione Programmi ti permette di variare le impostazioni del browser predefinito per navigare, gestire eventuali componenti aggiuntivi o scegliere il programma per un servizio ben definito. Puoi tramite il pulsante predefinito impostare Internet Explorer come browser predefinito per la tua navigazione. Quando cliccherai ad esempio su un link attivo si aprirà proprio questo browser se lo hai impostato come predefinito altrimenti un altro che avrai installato sul tuo sistema operativo. La casella avvisa se Internet Explorer non è un browser predefinito, se la spunti, controllerà ad ogni avvio di Internet Explorer se esso è il browser predefinito e eventualmente ti notificherà in caso non lo fossi. La sottosezione gestione componenti aggiuntivi ti permette di abilitare o disabilitare eventuali componenti aggiuntivi che eventualmente installerai nel tuo browser che potrebbero essere utili per migliorare la tua esperienza della navigazione. La sottosezione modifica HTML la tralascerei in quanto riguarda modifiche delle pagine HTML, stiamo parlando di programmazione. Programmi Internet invece ti consente di modificare l'associazione tra un programma e una tipologia di file, qui uno screenshot e puoi vedere quattro opzioni disponibili. Puoi associare ad esempio l'apertura di pagine web con un determinato browser o l'apertura di file multimediale con uno specifico lettore, qui tramite uno screenshot ho rappresentato la possibilità di far avviare e rendere come programma predefinito VLC per i file multimediali. Ancora potrai anche gestire tramite questa sezione l'autoplay per l'avvio dei supporti ottici o configurare programmi sempre per specifiche attività ed impostare in un'unica pagina tutti i programmi predefiniti per l'uso che farai sul tuo sistema operativo, senza andare a rendere predefinito ogni singolo programma in giro per il tuo hard disk. Infine puoi addirittura abilitare o rimuovere l'accesso ad uno o più programmi, si aprirà una schermata nella quale potrai personalizzare quali programmi utilizzare eventualmente negando l'accesso a uno o più programmi, non disinstallerai questi programmi almeno direttamente da questa sezione, ma avrai una miglior gestione della tipologia di tutti i programmi presenti all'interno del tuo computer, quindi come detto non disinstallerai direttamente il programma se dovessi negare l'accesso al programma stesso, non li troverai nella lista dei programmi da utilizzare, tramite il pulsante impostazioni puoi accedere ad ulteriori sottosezioni per applicare tali scelte. Infine la sezione avanzate sempre in ambito di Internet Explorer trovi un'ampia serie di opzioni per personalizzare la fruibilità di Internet Explorer, qui hai uno screenshot parziale tramite questa barra scorrimento puoi visionare tutte le opzioni che puoi selezionare o deselezionare tramite queste caselle di spunta. Sono suddivise per categorie, alcune saranno facili a comprendere, altre un pochino meno, però potrai selezionare e deselezionare l'uno all'altro segno di spunta e soprattutto potrai anche sperimentare con i programmi che già ben conosci. Se utilizzi quindi Internet Explorer non ti resta che armarti di buona volontà e testare singolarmente le varie opzioni messe a disposizione da questa sezione. In tal unicasi sarà necessario riavviare Internet Explorer per rendere operative le modifiche che apporterai tramite l'inserimento o la rimozione del segno di spunta. Infine il pulsante ripristina impostazioni avanzate, riporta le impostazioni avanzate ai valori standard, mentre reimposta un altro pulsante a tonazione più drastica, reimpostando tutte le impostazioni di Internet Explorer allo stato della prima installazione, quindi quando hai appena installato il sistema operativo. Ciò può tornarti utile se dovessi avere qualche problema con Internet Explorer, ma ricordo è sempre bene installarne più di uno proprio per discriminare la non funzionalità di uno specifico browser oppure di configurazioni ad Internet o peggio ancora. Allora, goodwill andiamo a vedere la parte pratica relativa alle opzioni Internet dal pannello di controllo clicca sul pulsante Opzioni Internet. Da questa sezione potrai ottenere come detto diverse impostazioni. Ad esempio puoi andare a impostare una pagina iniziale quando si apre Internet Explorer, oppure ne potrai personalizzare una tua scrivendo l'indirizzo che meglio prediligi, oppure potresti anche selezionarne più di uno, sarà sufficiente scrivere n URL uno sotto l'altro per far sì che ad ogni apertura di Internet Explorer si vadano ad aprire n schede dei tuoi preferiti, per così dire. Potrai scegliere la pagina predefinita della Microsoft oppure impostare una pagina vuota. L'altra sottosezione di questa sezione generale è poter eliminare la cronologia delle esplorazioni al momento di uscire da Internet Explorer, oppure potrai impostare l'eliminazione volontaria tu in qualsiasi momento selezionando ciò che vuoi rimuovere e cliccando sul pulsante Elimina. Una rapida scansione procederà all'eliminazione della cronologia che avrai fino a quel momento, oppure tramite il pulsante Impostazioni potrai decidere quando aggiornare i file temporanei in base ad una tua scelta oppure selezionare i file che man mano sono stati scaricati durante la navigazione, tramite il pulsante Visualizza oggetti, andrai a visionare se eventualmente hai scaricato qualcosa all'interno di questa cartella durante la navigazione, oppure andare a visionare i file che verosimilmente sono stati scaricati durante la navigazione e che potrai comunque rimuovere a tuo piacere. Altra sezione, potrai scegliere di quanti giorni mantenere la cronologia di navigazione in base a un'impostazione che meglio sceglierai. Puoi impostare tramite questa sottosezione le impostazioni dei provider di ricerca predefiniti o comunque potrai aggiungerne se eventualmente non ti andasse bene quello predefinito, oppure ancora potrai modificare la visualizzazione delle pagine web tramite questo pulsante in modo tale che si verifichino determinate condizioni in base alla scelta che andrai ad eseguire in queste caselle di spunta, oppure nel momento in cui si va ad aprire una nuova scheda, quindi puoi personalizzare in base alla tua necessità e al tuo piacere ciò che dovrà accadere durante la navigazione tramite il browser Internet Explorer. Tramite l'ultima sottosezione potrai impostare l'aspetto delle pagine web della navigazione, come impostare i colori di visualizzazione dello sfondo del testo, oppure scegliere la lingua, il tipo di carattere che andrà ad essere utilizzato o selezionare alcune opzioni per migliorare l'accesso e renderlo più facilitato in caso di necessità. La seconda sezione di questa scheda delle proprietà Internet è sicurezza, qui puoi trovare come detto 4 sezioni, 4 aree che puoi personalizzare a tuo piacere, quindi fornire ad ogni area una impostazione del livello di sicurezza che andrà a rendere più libera o più rigida in base alla scelta che andrai ad adottare la navigazione stessa. Nel caso in cui tu volessi ulteriormente personalizzare puoi impostare e creare una tua lista di siti attendibili oppure siti a cui vorrai fornire restrizioni, quindi creare una tua lista bianca e lista nera per far sì che determinati siti non vadano ad essere visualizzati. All'interno di ogni area come puoi vedere puoi personalizzare in maniera dettagliata e molto granulare un'enorme quantità di impostazioni. In base alla tipologia del parametro che sceglierai ti potrai sbizzarire per andare a rendere come detto più libera o più ostica la navigazione oppure l'esecuzione di determinate funzioni. In particolar modo in questa sezione puoi andare a impostare ciò che accade durante una scelta di download come attivare o disattivare il download oppure eseguire una richiesta di conferma prima di iniziare un download del file. Il pulsante è rimposta ti aiuterà a rimpostare eventuali parametri di difficile comprensione oppure se non ricordi più come l'hai impostato per rendere più facile la gestione di queste varie aree. La sezione relativa alla privacy è indicata per quel che riguarda i cookie. Anche qui hai una barra che ti permette di accettare e rendere più libera l'acquisizione dei cookie da parte dei siti che andrai a navigare oppure renderla più ostica. Ricorda di che in alcuni casi la gestione dei cookie è particolarmente importante perché ti permette proprio di accedere a determinati servizi quindi se sei molto ostico, se sei molto ostica durante la navigazione con Internet Explorer in questa sezione potrai anche non raggiungere l'obiettivo di quella specifica navigazione. Anche in questo caso potrai scegliere un indirizzo o una serie di indirizzi per poter bloccare o consentire l'accesso ai cookie e personalizzare quanto più possibile la tua navigazione. Potrai importare dei parametri relativi alla preferenza di privacy per quel che riguarda la gestione dei cookie oppure selezionare una opzione manuale o automatica tramite questa sezione che ti permette di scegliere quali impostazioni selezionare. Il pulsante predefinito ripristina tutti i parametri relativi ai cookie. La sottosezione è relativa ai pop-up. I pop-up sono sostanzialmente delle finestre che possono anche essere particolarmente fastidiose se pubblicitarie o peggio ancora se fossero a rischio di privacy. Tramite questo segno di spunta puoi attivare il blocco dei pop-up e anche qui creare una tua lista di che ti permette di bloccare alcuni indirizzi specifici di siti e eventualmente rimuoverli se ti dovessi sbagliare. La sottosezione finale di questa sessione in private ti permette di non raccogliere i dati da usare durante in private filtering, ossia la possibilità di non memorizzare la tua navigazione e tutelare in un certo qual modo la stessa ed eventualmente anche disabilitare se è selezionato questo segno di spunta le sezioni e le bare degli strumenti all'avvio di questo tipo di navigazione perché queste bare di strumenti e le estensioni potrebbero anche essere utilizzate per aggirare la tua privacy. La sezione relativa al contenuto parte con il controllo genitori che abbiamo già trattato nella lezione 97 quindi ti stimolo eventualmente a ricontrollarla. La sottosezione relativa al contenuto verificato ti permetterà di attivare in base alla categoria che andrai a scegliere una limitazione o una maggior libertà relativa a determinati criteri. Se ad esempio volessi gestire il contenuto di gattivo esempio per i bambini tramite questa barra potrai selezionare nessun contenuto, ossia navigare con una certa sicurezza affinché non si verifichi la visualizzazione di nessun contenuto di gattivo esempio per i bambini in modo da non scioccarli più di tanto oppure posizionarla al centro e limitare la visualizzazione di certi contenuti soltanto in ambito artistico, medico, didattico o sportivo di cronaca oppure renderle particolarmente libero e quindi a rischio naturalmente mostrando un contenuto che può danneggiare la crescita psicologica dei bambini. Quindi come puoi vedere c'è un'ampia scelta in base alla categoria che può permetterti di ottimizzare il contenuto relativo alla navigazione. Le altre sezioni permettono come sempre di consentire l'accesso a determinati siti web oppure negarglielo definitivamente o inserire una password di supervisione per poter modificare i parametri che avrai selezionato in quest'area e quindi questo può ritornare utile per evitare che malintenzionati che possano avere accesso al tuo computer possano alterare questi parametri. La sottosezione relativa ai certificati la tralascerei e comunque ti permetterà di visionare o eventualmente rimuovere o aggiornare i certificati dei siti che andrai a navigare. Certificati che ricordo servono per certificare e garantire l'identità e la crittografia dei siti che andrai a navigare. La sottosezione relativa al completamento automatico ti permetterà di agevolare se vuoi la compilazione dei campi nelle sezioni che andrai a scegliere o rimuovere in modo da migliorare e rendere più rapida la compilazione dei vari campi durante la tua navigazione. L'ultima sottosezione feed e web slice tramite il pulsante impostazione ti permetterà di selezionare quando andare a controllare quindi ad aggiornare eventuali upgrade ai feed e web slice che ti sarai andato a sottoscrivere o altre impostazioni di notifica che ti allertino quando avviene un aggiornamento a questi parametri. L'altra sezione è la connessione che ti permetterà di impostare una connessione ad internet ma verosimilmente tu già sei connesso e quindi non dovrai aggiungere e ricreare uno wizard che ti permette di creare una connessione ad internet qualora dovessi realizzare una virtual private network dovrai avere informazioni dall'amministratore di rete o qualora tu lo fossi dovrai impostare dei parametri relativi a questa rete per poter portare a termine la stessa forse il pulsante più importante potrebbe essere quello delle impostazioni della LAN che ti permetterà di impostare il rilevamento automatico delle impostazioni per la navigazione ad internet ed eventualmente usassi dei proxy andare ad inserire l'indirizzo url e la porta da utilizzare per questo specifico servizio di server proxy o ancora di più andare a selezionare un indirizzo specifico per i proxy in relazione alla porta e al protocollo di navigazione che andrai a selezionare e ancora impostare alcune eccezioni nei quali siti non dovrà essere eseguita l'accesso via proxy altra sezione relativa ai programmi qui internet explorer può essere impostato come browser predefinito qualora non lo fosse e un'allerta notificherà l'assenza di questa impostazione per i browser qualora non fosse predefinito come navigatore il pulsante gestione componenti aggiuntivi ti permetterà di gestire i componenti aggiuntivi di internet explorer che man mano deciderai di installare o meno per eventualmente migliorare la tua navigazione questa sottosezione è relativa alla programmazione e la tralascerei invece tratterei la sezione relativa ai programmi internet imposta programmi ti apre una nuova sezione ben corposa che ti permette di impostare i programmi predefiniti in un'unica pagina ad esempio potrai scegliere quale browser impostare come predefinito il luogo di altri in questa versione ho po' di programmi installati quindi mi è un po' difficile farti capire il senso l'importante è scegliere i vari programmi che avrai installato e per ogni tipo di operazione da eseguire ad esempio la visualizzazione di programmi multimediali o la navigazione potrai scegliere in questa pagina quale di questi programmi tu definirai per quello specifico protocollo o apertura di file come predefinito semplicemente selezionandolo e cliccando su questo pulsante un'ulteriore selezione è quello di andare a cliccare su questo pulsante e selezionare quali file in particolar modo e quindi quale estensioni far sì che vengono aperte con quel determinato programma oppure deselezionarlo se non vuoi che questo specifico programma in questo esempio WordPad non apra i file DOCS o RTF il pulsante salva ti permetterà di acquisire tale impostazione e possiamo passare oltre la sezione successiva associa un tipo di file o un protocollo ad un programma è particolarmente utile qualora tu non avessi il risultato che vuoi nell'apertura di un determinato programma mi spiego con un esempio se tu volessi aprire i file AVI anziché con il Windows Media Player con qualsiasi altro lettore, Windows Media Center, VLC o qualsiasi altro lettore che hai installato qui potrai scegliere in maniera granulare l'infinita sequela di estensioni e ottimizzare l'apertura per tutti i tipi di estensioni per ogni specifico programma quindi cosa dovrai fare? selezionare l'estensione e scegliere il pulsante cambia programma dalla lista che si presenterà oppure se non lo trovi qua il programma potrai sempre scegliere dal pulsante sfoglia e individuare dalla lista dei programmi installati quale andare a selezionare dopo che tu avrai scelto l'uno o l'altro cliccando su ok avverrà il cambio di apertura di questa estensione con il nuovo formato che come puoi vedere è passato da Windows Media Player a Windows Media Center questo è particolarmente utile qualora non riuscissi ad aprire un determinato file o meglio l'estensione di un determinato file con il programma che tu ritieni più opportuno la sezione modifiche impostazioni e riproduzione automatica già l'abbiamo trattata in una lezione precedente quindi passiamo oltre l'ultima sezione impostazione accesso ai programmi ti permette di selezionare a quali programmi consentire abilitare l'accesso e quindi renderli visibili per avviarli oppure disabilitare l'accesso questa sezione non disinstallerà direttamente il programma ma lo renderà soltanto non avviabile perché non visionabile come esempio potremmo disabilitare l'accesso al programma Internet Explorer che troverai nella lista di tutti i programmi ecco qua la sua icona deselezionando appunto il segno di spunta che neghi l'accesso al programma cliccando su ok naturalmente dopo questo programma non sarà più nella lista ma non è di fatto come detto disinstallato riposizioniamoci nelle condizioni precedenti e questo dicevo può essere applicato all'ampia lista che verosimilmente troverai nella tua versione del sistema operativo in base ai programmi che andrai ad installare potrai scegliere di applicare questa operazione ai soli programmi non Microsoft oppure ai programmi Microsoft e quindi consentire in questo caso o negare l'accesso ai programmi Microsoft selezionando un semplice segno di spunta oppure personalizzarlo miscelando le scelte tra i programmi Microsoft e non Microsoft chiudiamo anche questa sezione e torniamo a parlare dell'ultima sezione delle proprietà Internet anche qui c'è un'ampia schiera di possibilità che con il tempo io ti stimolo a scegliere di verificare qualora tu volessi anche se è ragionevole pensare che molte sono fuori della nostra portata e anche io devo confessarti che non ho utilizzato questa sezione nella scelta anche perché molto corposa e oltretutto non utilizzo Internet Explorer come browser predefinito ma se tu volessi potrai scegliere di sperimentare i vari parametri grazie ai sistemi di virtualizzazione che ti permetteranno di scegliere l'una o l'altra opzione in piena sicurezza comunque ricordati anche se non lo facessi in via sperimentale potrai sempre reimpostare i parametri le impostazioni tramite questo pulsante relativa alla sezione avanzate oppure il pulsante reimposta reimposterà di default tutte le impostazioni di Internet Explorer come se fosse il browser appena installato ci leggiamo ancora nella prossima lezione per nuove informazioni sul pannello di controllo ora un forte saluto come sempre ciao a presto da Carlo e dalla prossima ciao a presto Grazie per la visione!